A nostro avviso non è assolutamente condivisibile la proposta del Ministro Urso, ovvero di rallentare sugli investimenti del settore dell'automotive nell'indirizzo della mobilità sostenibile e dell'auto elettrica, innanzitutto perché si crea confusione, si creerebbe confusione a livello europeo rispetto alla normativa esistente, ci sono tante aziende e tante imprese che si sono già adattate e che sono allineate rispetto alla famosa transizione ecologica nell'ambito dell'elettrico e quindi ciò comporterebbe una battuta d'arresto per queste aziende, per queste imprese, anzi se si vogliono aiutare le imprese, noi siamo assolutamente d'accordo con questo, bisogna supportare ancora di più il mercato per cercare di fare in modo che le nostre aziende siano competitive anche nel mercato internazionale perché altrimenti saremo sempre ed esclusivamente attraino e secondari rispetto all'America e alla Cina.